Rurabilandia opera in sinergia con altre strutture antilocali. Si proietta infatti sul territorio attraverso una rete, collaborando con le associazioni, con i comuni e con le famiglie. Grazie a questa sinergia è diventato un modello unico di integrazione sociale, conosciuto su tutto il territorio abruzzese. Grazie a Rurabilandia la diversità è divenuta Unicità e Oportunità